Amici di Spazio Games, bentornati sul nostro canale oggi per vedere insieme in che modo si sono rinnovate le offerte estive di PlayStation Store. A partire da oggi infatti potete approfittare di alcuni nuovi e ulteriori giochi che si aggiungono ai saldi che erano già disponibili in digitale su PlayStation 4 e su PlayStation 5 e noi ne abbiamo selezionato 5 nello specifico che pensiamo non dovreste perdere. Andiamo subito a vedere quali sono. Cominciamo con Final Fantasy VII Remake e nello specifico Remake Intergrade, quindi considerando che è recentissima l'uscita di Final Fantasy VII Remake anche su PlayStation 5 è interessante vedere che il gioco viene proposto a 56,79 euro. Non si tratta di un prezzo per cui strapparsi i capelli, nel senso che vedete già da voi che è un prezzo abbastanza alto rispetto ai prezzi che si trovano di solito durante i saldi, però abbiamo controllato e normalmente presso i maggiori retailer la copia fisica del gioco è venduta tra i 64 e gli 80 euro circa. Quindi se siete interessati a FF7 su PS5 e non volete perdere tempo, per così dire perdere, ad aspettare ulteriori tagli di prezzo, sappiate che 56,79 euro per ora è il prezzo più basso che potete trovare in giro. La promozione sarà disponibile fino al 19 agosto. Ha bisogno di ancora meno presentazioni lo sconto dedicato a The Last of Us parte 2. Se non avete ancora recuperato questa pluripremiata avventura che ci sentiamo di raccomandare tantissimo, chiama i videogiochi dai toni adulti e che si fanno veicoli di forti messaggi attraverso l'interazione, sappiate che l'ultimo gioco di Naughty Dog è disponibile durante i saldi fino al 19 agosto a 29,99 euro per la copia digitale. Verificando al momento abbiamo notato che presso il retailer la copia fisica è invece intorno ai 50 euro. Amanti dell'universo di Star Wars, ricorderete sicuramente che nel 2019 uscì un titolo molto molto apprezzato dalla critica e molto molto apprezzato dal pubblico. Stiamo parlando di Star Wars Jedi Fallen Order, che è uno dei protagonisti anche per i giocatori PS5 dei saldi stivi di PlayStation Store. In questo momento infatti potete acquistare questa avventura che vi ricordiamo è ritenuta canonica all'interno dell'enorme universo di Star Wars per 24,99 euro. Si tratta di un piccolo risparmio rispetto invece al prezzo che trovate presso il retailer che si aggira intorno ai 30 euro o più o meno dai 30 euro in su. Se quello che cercate invece è un viaggio nell'apocalisse firmato da Dimitri Glukowski, celebre scrittore, autore della serie Metro, ecco che potreste approfittare del prezzo tagliato su Metro Exodus. L'apprezzato shooter in prima persona ambientato nell'est europeo infatti ha un prezzo intorno ai 40 euro circa per la copia retail in questo momento sul mercato. Invece attraverso i saldi PlayStation Store potete acquistare una copia digitale a 13,99 euro. Insomma se ritenete che sia pane per i vostri denti sapete cosa dovete fare. Chiudiamo la nostra selezione con il re assoluto dei JRPG della scorsa generazione perché in questo momento potete approfittare di uno sconto molto interessante su Persona 5 Royale. Grazie agli sconti estivi di PlayStation Store il gioco infatti è venduto a 26,99 euro. Andando a farci un giro presso i maggiori retailer abbiamo visto che normalmente il prezzo di mercato per una copia fisica è tra i 38 e i 50 euro. Quindi se volete seguire Joker e i Phantom Thieves nella loro avventura che in questa edizione non solo ha alcuni contenuti aggiuntivi ma è anche localizzata in italiano potete approfittare fino al 19 agosto dello sconto proposto da PlayStation Store. Ragazzi vi ringrazio per aver visto il video fino a qui ci tengo anche a sottolineare che noi stiamo segnalando questi sconti e queste promozioni perché pensiamo che possano essere di interesse per i nostri lettori. Noi non riceviamo commissioni dai vostri acquisti su PlayStation Store quindi insomma comprate un po' quello che preferite sapendo che questi sconti sono comunque da tenere in considerazione rispetto ai prezzi su cui si aggirano i giochi che abbiamo citato abitualmente. Se avete identificato anche voi altri sconti non esitate a farlo sapere ad altri giocatori nella nostra area commenti. Io di nuovo vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania e vi do appuntamento presto per un altro video sul canale di Spazio Games. Grazie. 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 Grazie.